Fino a meno ce l'ha detto, non è come si dica ne ho, si sta così bello. Fino a meno, sapete perché sta così ingurata? Se chiede quel libro che non l'ha giusto mai, ha portato un bar di menzina a Giuliana. Perciò si sta così. Si. E perciò dice che voi siete un spirito. Io sono un spirito. E se ne vado l'acqua forte vicino a meno spesa. Cioè quando una persona non esiste non ci sta proprio, no? Non esiste. Ma all'anno verrà sul lacchino. Se passano, noi ci sfido e tutti giudiamo poi si riesce. Eh no. Ma all'anno verrà sul lacchino. Ma all'anno verrà sul lacchino. Ma voi non hai da mettere, non hai da fare un euro? Ma come se vuoi mettere? Io non ci asisto. Voi ci stanno in casa con me l'ha esistito. Ma all'anno verrà salato. Ma voi dite un discorso. Ma voi dite un discorso. Sofri. Ma voi dite un discorso. 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 Ma voi dite una cosa sulla mezza. Ma sto a casa con tutti i giudini. Che stanno mettendo a giro su fatto. Ma non ci vanno a fare. Ma perché non ponire il cabascio? Ma va a dire 160 carte all'anno. Ma non ci fai tutto il sangue. E poi venite dicendo ci sono o non ci sto. Voi vuoi dicendo. Oh cazzo a me non è buono. Ma voi c'è il pubblico. Ma voi dite un discorso come non ci sto. Cosa è pazzo? Un'anti di 한다 da fare. Come si vanno a essere fatto i burigli. Non capite? Non ci ha fatti. E' questa è la nacre. Come la nacre fronese. non si sa questo non si sa questo questo è Sustraio tutto è giusto Sustraio tutti gli altri se fa il caso di palo che la sua come la parte da parte che si rispise se ci si fa se sei io non voglio niente di ciò, non voglio niente di ciò, non voglio niente di ciò, non ci saldassimo anche io mi salvo la ciotola di qui sarà, hai capito? i poveri che una cosa, per condomincio stai là, per condomincio stai là qualcuno che va mettendo questi cazzo mi chiedeci. fai mettere la canzone, tu è chi guanno, devi fare la canzone, tu è chi guanno, vetti ma vuoi, tu è chi guanno, devi fare la canzone!